Ora sarà difficilissimo tornare indietro, riavvolgere il nastro e fare finta di niente o meglio ancora ricomporre la frattura che è netta. Altro che strappo o frizioni. Decidendo di non esporre in processione il goffalone del comune di Salerno, il simbolo della città, le istituzioni hanno marcato una posizione che va ben oltre la simbolica e di per sé già pesante assenza in processione di sindaco e rappresentanti della giunta. Un conto sono le posizioni dei singoli e comunque trattandosi di istituzioni elette direttamente dal popolo ci sarebbe da discutere, ma un conto, dicevamo, sono le posizioni individuali. Un altro è il dovere istituzionale. Il goffalone della città di Salerno non appartiene al singolo rappresentante, non è di proprietà privata di chi viene eletto, ma è patrimonio collettivo e per questo non poteva e non doveva mancare al seguito della statua del Santo Patrono Matteo. Un abuso in piena regola di cui sindaco e giunta dovranno dar conto alla città di Salerno. Ai salernitani atteso che è stata già protocollata un'interrogazione da parte del consigliere d'opposizione, nonché presidente della Commissione Trasparenza, Antonio Cammarota. Ma al di là degli aspetti formali comunque importanti e da osservare, stupisce la ferma determinazione, anzi la predeterminazione quasi, con la quale si è deciso di prendere completamente le distanze dall'evento religioso. Ci può stare una diversità d'opinione, anche l'assenza alla processione e tutta una serie di precisazioni e puntualizzazioni, ma arrivare al punto di vietare la presenza del gonfalone nel giorno da sempre consacrato a Salerno e ai salernitani è oggettivamente troppo. Segna un punto di non ritorno, perché ora oggettivamente si fa fatica a pensare in che modo questa situazione incresciosa e solo all'apparenza incomprensibile possa essere ricomposta. Non c'entra la laicità delle istituzioni, non c'entra l'ateismo del primo cittadino e il rispetto del protocollo religioso. Qui si è andati ben oltre, si è scritta una brutta pagina di Storia Cittadina.